che roba è questa via maestro il torre francese oggi abbiamo anche il pazzo con quegli occhialini ecco il polverone un po' che si faccia video e 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 ecco che fai paranchi paranchi e e e e e com'era la via? bello ragazzo c'è l'ultimo udino spettacolo è come quello più duro dell'occhio e 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 guanni molla tutto vai che qui si cammina fa un po' di divacco poi si prosegue a che parte dopo la blocchi in alto che io vengo su quella carrugola non corre neanche tu mi faccia sicura per via di cresta e 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